Presidente Sebastiani, ripartiamo da venerdì sera, un pareggio un po' deludente quello contro il Cosenza. Sì, sicuramente non una bella partita, però poi alla luce degli altri risultati ci rendiamo sempre più conto che questo campionato è molto livellato e anche quelli che come noi stanno là davanti dall'inizio soffrono, possono soffrire con tutte le squadre. Però prendiamoci il buono, prendiamoci questo punto e prepariamo al meglio le prossime due che saranno due partite veramente importanti per il Pescara. Presidente Sebastiani, ci può fare chiarezza sulla questione, sulle ultime voci che parlano del pignoramento delle quote CIMAV della Delfino Pescara? Ma io sinceramente, come ho detto a qualche vostro collega, siccome sono dieci giorni e sono impegnato per lavoro e non sono stato in ufficio, non so onestamente che cosa sia arrivato e se è arrivato qualcosa. Però la cosa che tengo a dire, perché ho ricevuto tante telefonate da tanti vostri colleghi, è che anche nel caso in cui uno dei soci dovesse avere un problema di questo tipo, la Pescara Calcio non rischia nulla perché non c'entra assolutamente nulla. Non ci sarà quindi nessun tipo di ricaduta sul Pescara? Assolutamente no, la ricapitalizzazione segue il suo percorso, sono stati già sottoscritti, sono arrivati già le adesioni dei soci alla sottoscrizione, entro il 20 bisognerà versare anche il 25% di questa sottoscrizione e poi il Consiglio d'amministrazione delibererà la data per il versamento totale. Chi lo farà entro il 20 sarà un socio che avrà ricapitalizzato, chi non lo farà o lo farà in parte sarà per la parte che avrà deciso di fare, però questo non toglie nulla e non comporta nulla al problema di penalizzazione. Le penalizzazioni si prendono solo se non paghi, il Pescara la scadenza l'ha già onorata qualche settimana fa. Torniamo sul fronte campionato, secondo lei sui risultati delle ultime partite pesa un po' la stanchezza di questa squadra, pesano un po' le assenze? Ma è un campionato dove abbiamo fatto diverse partite infrasettimanali, quello sì, però è anche vero che l'hanno fatte tutti, quindi possiamo guardare pesa o non pesa. Secondo me ci può essere un momento di difficoltà o qualche partita che va a vuoto, però il Pescara sta facendo un grande campionato perché essere lì a 45 punti, in questo momento praticamente a 4 punti dal secondo posto, credo che sia un campionato importante. L'ultima, se volessimo fissare un obiettivo, play-off o promozione diretta? Ma noi l'abbiamo fatto dall'inizio, andiamo avanti partita dopo partita, cerchiamo di fare bene, poi come ho detto una settimana fa, fra 4-5 partite si vedrà se sei solo da play-off, se puoi ancora giocarti qualcosa per il campionato in maniera diretta, però insomma ci sono tante variabili da qui alla fine, quindi pensiamo a una partita alla volta. Secondo Sebastiani questo Pescara ce la può fare? Secondo Sebastiani questo Pescara ce la può giocare contro tutti, come ha dimostrato fin qui. Abbiamo sbagliato qualche partita contro le nostre dirette avversarie, anche se le abbiamo magari vinte poi in casa e perse fuori. Ce ne mancano ancora 3 o 4 scontri diretti, speriamo di recuperarle.